Sì, sette gol. Un c'è la doppia cifra? È normale, tutti gli attaccanti puntavano la doppia cifra, però basta che vinciamo. No, il ritiro ci hanno messo perché venivamo da risultati negativi, anche se non lo facevamo, sapevamo che dovevamo vincere. Noi proviamo a fare più punti possibili, poi a fine di queste cinque partite vediamo quanti punti abbiamo fatto e che posizione siamo arrivati. Sì, la vittoria ti fa stare bene, ti aiuta, invece quando perdi, perdi un po' di sicurezza e quindi questa vittoria ci fa avere un po' di sicurezza in più.